Il segreto della felicità di Michael Marpurgo Illustrazioni di Emma Chichester Clark Ci sono periodi in cui nel mondo tutto sembra procedere a meraviglia. È proprio in un periodo così che inizia questa storia. Tutti erano felici in quel paese. Il raccolto prometteva bene, il grano cresceva dorato nei campi, le viti e gli alberi erano carichi di frutta. I fiumi scintillanti pullulavano di pesci argentati. Ma il più felice di tutti in quella terra fortunata era il principe Federico. Per il suo popolo era un fratello più che un principe ed era molto amato. Per questo tutti si rallegrarono per lui quando trovò finalmente la principessa del suo cuore. Serafina era tanto bella e gentile che tutti ne rimanevano conquistati al primo sguardo. Bastava un suo sorriso a diffondere gioia. I due si sposarono il giorno di Capodanno e il popolo impazzì di felicità. Le campane suonarono in tutto il paese, si danzò nelle strade, si levarono i calici, tutti gioirono, banchettarono e festeggiarono, dalla mattina fino a notte fonda. Non si era mai vista una coppia tanto felice. Ma nemmeno un anno dopo le cose erano cambiate. La gioia e la felicità erano svanite. Tutti vedevano che sulla principessa incombeva un grande dolore, come un'ombra scura. Non sorrideva mai, non rideva più, non cantava. Il principe Federico non riusciva a capire cosa fosse accaduto alla sua adorata principessa, e, come lui, nessun altro. Era un mistero assoluto. La luce abbandonò i suoi occhi. Le sue guance scolorirono. Sembrava perduta nella propria tristezza e incapace di trovare una via d'uscita. Il principe Federico desiderava con tutto se stesso che lei tornasse felice. A Natale, come segno del suo amore, la ricoprì di doni. Le regalò parrocchetti e pavoni, manguste scimmie e due levrieri che le stavano sempre al fianco e l'amavano incondizionatamente. Ma niente sembrava sollevare lo spirito della principessa. Il principe era affranto. Era come se, nonostante i suoi tentativi, non ci fosse niente in grado di aiutarla. Il medico di corte la visitava tutti i giorni, ma anche lui era confuso e disorientato come chiunque altro. Nessuna medicina, tra quelle che le aveva somministrato, aveva sortito alcun effetto. Forse, una volta che saranno passati i cieli grigi dell'inverno, pensava il principe, tornerà a essere felice. La primavera finalmente arrivò, ma la principessa rimase triste come sempre. Il principe Federico iniziava a essere preoccupato per la sua vita, e così il medico di corte. Sembra abbia perso la voglia di vivere, diceva il medico. Suggerirei comunque che esca all'aria fresca della primavera. Una passeggiata a cavallo ogni giorno potrebbe farle bene. Così, la mattina dopo, il principe Federico la portò a fare una lunga cavalcata sulle colline. —Non è il posto più bello del mondo, cara? —Ti fa sentire felice di essere vivo, non credi? Ma la principessa Serafina non disse neanche una parola. Posò lo sguardo sui campi di grano, non vedendo nient'altro che vuoto, non provando nient'altro che solitudine. Quando la primavera lasciò il passo all'estate, la principessa divenne talmente debole da non riuscire nemmeno più ad andare a cavallo. Giunse l'autunno. Gli alberi rilucevano di rosso, di oro e di giallo nel sole del pomeriggio. Ma la principessa non scorgeva in tutto questo alcuna bellezza, non ne ricavava la minima gioia. Venne l'inverno, con i suoi venti feroci e le sue tempeste. Il principe e la principessa sedevano accanto al fuoco nella stanza di lei. Lui leggeva per lei nelle lunghe sere buie, anche se si rendeva conto che la sua amata non lo ascoltava. Dentro il palazzo, così come fuori, la notizia che la principessa stesse per morire, che fosse solo questione di tempo, si diffuse rapidamente. Il maestro di palazzo ordinò che tutti i preparativi in vista del Natale fossero sospesi, che l'agrifoglio fosse rimosso, portato via l'albero dalla grande sala, e che per quell'anno non ci fossero celebrazioni. Attorno a lui il principe vedeva solo tristezza e compassione. Gli amici e i familiari piangevano apertamente. Voleva solo scappare via da tutto. Saltò sul suo cavallo e si lanciò al galoppo per i campi dove poteva restare da solo. Cavalcò e cavalcò, urlando a squarciagole il suo dolore, gridandolo nel vento, nella bufera di neve accecante, che all'improvviso iniziò a turbinare intorno a lui. Presto il suo cavallo non riuscì a proseguire. La neve era troppo profonda, il vento troppo sferzante. Così, quando il principe vide la luce della finestra di una casa delle vicinanze, capì che era il caso di fermarsi e chiedere riparo. Ma quando si avvicinò e smontò da cavallo, si accorse che non era affatto una casa, bensì un carrozzone come quelli dei nomadi. Salì gli scalini e bussò alla porta. Aprì un giovane che gli sorrise e lo invitò subito ad entrare. Non sembrava affatto sorpreso di vederlo. Anzi, il principe ebbe l'impressione che l'intera famiglia di nomadi lo stesse in qualche modo aspettando. Tanto generoso e immediato, tanto incondizionato era stato il calore del loro benvenuto. Si occuparono del suo cavallo. Lo misero al riparo assieme ai loro. E si assicurarono che ricevesse una bella strigliata e qualcosa da mangiare. Nessuno di loro sembrava sapere chi fosse. Era semplicemente uno straniero che avevano sottratto alla tempesta. Rimase tutta la sera con loro, mentre cantavano canzoni e raccontavano storie. Infine il vecchio nonno, il patriarca della famiglia, si sporse in avanti per parlare con il principe. «Hai sentito le nostre canzoni, straniero, e hai ascoltato le nostre storie. Non hai anche tu una canzone che vorresti cantare per noi? Non hai una storia che vorresti raccontarci?» Il principe ci pensò su. Aveva solo una storia per la mente. «È la storia di un principe che viveva in un palazzo, e di una bellissima principessa che lui amava più della sua stessa vita, e di come erano felici un tempo, fino a quando...» E così raccontò la sua storia. Mentre si avvicinava alla fine, un bambino seduto ai suoi piedi alzò lo sguardo verso di lui e disse piangendo. «E alla fine la principessa muore. Io non voglio che muoia». «Neanch'io», disse il principe, «voglio che la mia storia abbia un lieto fine. Desidero tanto che lei viva, ma, vedete, non so come salvarla dalla sua tristezza, come renderla di nuovo felice. Tutti voi qui sembrate così felici. Qual è il vostro segreto?» «Oh, è molto semplice», rispose il vecchio battendo la pipa contro la stufa per svuotarla. «Noi siamo chi vogliamo essere. Siamo girovaghi e continuiamo a viaggiare. Ci limitiamo a seguire la strada e le sue curve. Come tutti abbiamo anche noi i nostri guai, le nostre tristezze, ma... Continuiamo a sorridere. E questa è la cosa più importante, continuare a sorridere. Se la principessa della tua storia riuscisse a sorridere, allora tutto tornerebbe a posto e la tua storia avrebbe un lieto fine. «Mi piacciono le storie al lieto fine. Succede però una cosa strana con le storie al lieto fine. Spesso fanno piangere. L'hai notato? Buffo, non trovi! Sono molto vicine le due cose. Piangere e ridere. Abbiamo bisogno di entrambe, suppongo». Il principe rimase sveglio tutta la notte accanto alla stufa con la famiglia di nomadi che dormiva intorno a lui sul pavimento e per tutto il tempo ripensò a quanto aveva detto il vecchio. Fuori, la tempesta stava scemando. Giunto il mattino, il principe aveva deciso che cosa fare per salvare la sua principessa. Consumò un'abbondante colazione con i suoi ospiti e li ringraziò dal profondo del cuore per la loro gentilezza. Poi, augurando loro buon Natale, rimontò a cavallo e corse più veloce che poteva verso casa. Il principe Federico, sapeva che non c'era tempo da perdere, convocò immediatamente il consiglio. «Inviate i messaggeri in ogni angolo del paese», disse loro. «Dite al popolo che cederò tutto il mio regno, i miei titoli, le terre e le proprietà a chiunque sarà in grado di far sorridere di nuovo la principessa». Il consiglio protestò animatamente, ma il principe non volle sentire ragioni. «Voglio che si proclami che chiunque ne abbia la possibilità, chiunque ambisca a conquistare il mio regno, si presenti a palazzo il giorno di Natale, vale a dire tra due soli giorni. Nel frattempo faremo festa in tutto il palazzo, in tutto il paese, come facciamo sempre nel periodo natalizio. «Voglio che la tristezza sia bandita». E così i messaggeri furono inviati in lungo e in largo in ogni valle, in ogni borgo e in ogni città del regno. Alle prime luci dell'alba, del giorno di Natale, il cortile del palazzo si era riempito di ogni sorta di giullari, buffoni, giocolieri, acrobati e contorsionisti, tutti nei loro meravigliosi costumi scintillanti, tutti impegnati a provare e riprovare i loro numeri. C'erano anche gli animali, elefanti dall'India, cavalli dalla Spagna e scimpanzei dall'Africa. Tutti sapevano che quel giorno di Natale era la sua ultima occasione, la sua sola speranza, e ognuno di loro aveva il proprio ruolo. Avrebbero fatto il possibile per sollevare il suo spirito, per farle capire quanto era amata la principessa. Quando alla fine le grandi porte si aprirono ed entrò il primo artista, un pagliaccio con un secchio sulla testa, tutti scoppiarono a ridere, lanciando di tanto in tanto un'occhiata alla principessa, nella speranza di vedere l'accenno di un sorriso. Uno dopo l'altro i buffoni e i giullari entrarono per eseguire i loro numeri. Si esibirono in voli, volteggi, capriole, i giocoglieri e gli acrobati, migliori di tutto il regno, eseguirono ruote e salti mortali. Tutti risero fragorosamente, ma non la principessa. Proprio in quel momento, piano, molto piano, una delle grandi porte si aprì cicolando, e un viso fece capolino. Un viso mascherato. — Chi siete? chiese il principe Federico. Non indossavano costumi, soltanto maschere. Si muovevano con leggerezza come danzatori. Mano nella mano percorsero lo spazio della grande sala fino a dove sedevano il principe e la principessa. — Chi siete? chiese di nuovo il principe. — Siamo un asino, disse uno. — Siamo un cammello, disse un altro. — Siamo una mucca, siamo una pecora, siamo una capra, io sono un'oca e io sono una stella. Cinguettò una vocina, reggendo un lungo pallo con la stella dorata in cima. E tutti noi abbiamo preparato uno spettacolo di marionette per la principessa, uno spettacolo di Natale per allegrarle il cuore. E con ciò tutti, tranne il bambino con la stella, uscirono di nuovo. Passarono pochi istanti e sulla porta comparve l'oca, che guardò imperiosa a destra e a sinistra, quasi fosse a casa sua. Poi, con aria baldanzosa, come se nessun altro avesse il diritto di stare lì, entrò caracollando nel salone, fermandosi per invitare una pecora, una capra e una mucca a seguirla, tutte a grandezza naturale e tutte, anche l'oca, manovrate da burattinai mascherati. Organizzati dall'oca di Spotica, che in poco tempo era diventata la beniamina del pubblico, gli animali si radunarono per dormire sotto la stella dorata. A quel punto entrò un asino. Sul dorso trasportava una donna avvolta in un mantello scuro. Tutti ormai avevano capito che si trattava di Maria. E a guidare l'asino c'era Giuseppe. E insieme cantarono Astro del Ciel Pargo il Divin Quando finirono, Maria apre il mantello molto lentamente e tutti si accorsero che sotto c'era un bambino. Nel salone rimasero tutti a bocca aperta. Anche il bambino era una marionetta. Agitava le manine chiuse a pugno, scalciava, strillava e barbugliava. All'improvviso la principessa si raddrizzò, le mani alla bocca e le lacrime che scendevano lungo le guance. Vedendola così turbata, il principe balzò subito in piedi per interrompere la rappresentazione, ma, Prima che potesse farlo, lei gli mise una mano sul braccio. —Lasciali continuare, mio caro. Voglio vederla tutta, fino in fondo. In quell'istante dalla grande porta entrarono tre cammelli, con i burattinai mascherati all'interno. Entrarono muovendo i labroni e bramendo, ognuno con in groppa un re che portava doni. L'oca si svegliò di soprassalto, per nulla contenta di quella sgradita intrusione. Si aggirò con circospezione intorno ai tre re, sibilando il capo inclinato, le ali spiegate, mentre loro presentavano i doni che avevano portato a Maria e al bambino. Poi, soffiando come una decina di serpenti infuriati, L'oca si voltò verso i cammelli e li scacciò nella notte, con i tre re, che iniziarono a inseguirli correndo alla disperata. L'oca fece un inchino e andò a dare una sbirciatina al bambino, per poi rimettersi a dormire, accanto alla pecora, la capra e la mucca. Un attimo dopo furono alcuni pastori dall'aria frastornata e un po' smarrita a entrare, I pastori trovarono il bambino e si inginocchiarono per adorarlo, e quindi intonarono un canto. Dormi, dormi, mio bambino, dormi quieto, fai la nanna. Mentre cantavano, il principe vide che la principessa piangeva in silenzio, poi, come per miracolo, sorrise, sorrise tra le lacrime, e quando l'oca si svegliò e vide i pastori, iniziò a inseguirli a perdifiato per tutto il salone. «Adoro quell'oca!» gridò la principessa. «Adoro quell'oca!» A quel punto tutti erano ormai scattati in piedi ad applaudire ed esultare, mentre i burattinai si facevano avanti per l'inchino. «Voi avete fatto sorridere la mia principessa!» disse agli attori. «L'avete fatta ridere, quindi, come promesso, il mio regno è vostro!» Uno a uno gli attori si tolsero le maschere, e allora il principe li riconombe. Erano i nomadi che gli avevano dato riparo nella tempesta di neve, ai quali aveva raccontato la sua storia. «Non vogliamo il tuo regno!» disse il vecchio patriarca. «Volevamo solo essere sicuri che la tua storia avesse un lieto fine e che la principessa imparasse di nuovo a sorridere. E così è stato! Presto arriveranno tempi migliori per lei e per tutti voi in questo regno felice!» «Allora rimanete con noi almeno per un po'. Fermatevi per i festeggiamenti, in modo che possa ripagarvi in piccola parte della vostra gentilezza!» Così gli attori si fermarono e festeggiarono, ma non rimasero per la notte. «I nomadi non si fermano mai a lungo», disse il vecchio patriarca mentre risaliva sul carrozzone. «Ci piace continuare a viaggiare, ma prima di andare ci piacerebbe lasciarvi un regalo di Natale, la nostra piccola oca!» «Gli ne abbiamo parlato!» «Dice che l'idea di vivere a palazzo non le dispiace!» «Purché non la facciate arrosto, eh!» E così, lasciandosi l'oca alle spalle, proseguirono nella notte per la loro strada. Nessuno sapeva da dove venissero, nessuno sapeva dove sarebbero andati e nessuno li vide mai più. Il Natale seguente, la principessa Serafina non solo si era completamente rimessa in salute ed era di nuovo felice, ma teneva tra le braccia il suo prezioso bambino, che era poi ciò che aveva desiderato per tutto il tempo. Nella rappresentazione di Natale che allestirono nel salone, la principessa interpretava Maria e suo figlio il bambinello, che scalciava e agitava le manine chiuse a pugno proprio come si deve. L'oca naturalmente continuò a fare l'oca. Non era il tipo di oca con la quale si può discutere, questo era chiaro a tutti. E in suo onore, nel caso finisse per scoprirlo, nessuno in quel regno mangiò mai più oca arrosto per Natale.